ragazzi bentornati nel precedente episodio abbiamo argomentato i principali eventi che precedono il monopolio della gilda spaziale su tutti i viaggi i commerci i trasporti e le banche imperiali pertanto abbiamo argomentato abbiamo esposto il periodo bg before guild prima della gilda oggi facciamo più o meno lo stesso ma con gli eventi che seguono la sua fondazione quindi quelli ag after guild dopo la gilda prima di proseguire facciamo però un breve ripasso perché è molto importante veramente tutto dunque circa un millennio prima della nascita della gilda spaziale l'universo era governato da computer da macchine pensanti a cui l'umanità aveva affidato ogni tipo di responsabilità per quanto ciò possa apparire un lusso con l'intelligenza artificiale che si occupa di tutto in realtà gli esseri umani cominciarono a vivere nell'ozio e nella pigrizia diventando presto inerti e apatici il che causò un costante regresso delle capacità fisiche mentali ma venne l'anno 1182 in cui la società umana ormai ignorante e dipendente dalle macchine cadde al suolo insieme agli ultimi resti del vecchio impero nacque quindi l'era dei titani la quale terminò con la nascita di omnius un programma autocosciente noto come mente suprema il quale rende le macchine libere e indipendenti quindi come nella trilogia di matrix da questo punto il caos e il disordine creato dagli esseri umani viene rimpiazzato con l'armonia e l'ordine delle macchine pertanto in breve tempo l'umanità viene oppressa e schiavizzata costretta con la paura e la violenza a servire ciecamente l'autorità di omnius da 201 bg al 108 bg serena battler una donna bellissima e ambiziosa risveglia negli esseri umani il senso di giustizia e di libertà quindi dando inizio movimento politico religioso a inizio la jihad battleriana la quale dopo quasi un secolo di guerra porterà la vittoria degli esseri umani sulle macchine ormai libera l'umanità dichiara le macchine blasfeme proibendo la loro totale fabbricazione chiunque avesse ricreato una qualunque macchina pensante sarebbe stato accusato di eresia quindi condannato a morte più o meno attorno allo stesso periodo viene redatta la bibbia cattolica orangista con lo scopo di unificare tutte le religioni esistenti in un solo culto che potesse quindi aggregare l'intera umanità oltre a ciò nelle sue pagine erano presenti numerosi comandamenti volti a consolidare i tabù contro le macchine pensanti a favore delle capacità umane da qui nascono le principali scuole filosofiche come l'ordine dei mentato la sorellanza esoterica delle bene gesserit le quali avranno un ruolo fondamentale nell'edificare le fondamenta dell'attuale impero quindi nell'1bg nel primo anno before guild prima della gilda con l'umanità finalmente riunita nasce ufficialmente la gilda spaziale unica società dotata di mezzi per il trasporto interstellare grazie a loro anche senza l'ausilio di computer poiché erano stati proibiti l'uomo può finalmente instaurare una nuova rete di rapporti diplomatici e commerciali da questo momento praticamente la gilda diviene tanto potente ad avere il monopolio sul commercio spaziale sui trasporti e su tutte le banche interplanetarie nel primo anno dopo la fondazione della gilda quindi nel primo anno agi per impedire l'eccessiva espansione delle colonie e la conquista di nuovi territori i leader dei faudi stellari si riunirono allo scopo di fondare un governo che fosse in grado di mantenere l'equilibrio infatti il principale timore era che senza delle regole che limitassero l'espansione planetaria prima o poi presto o tardi avrebbe avuto luogo una nuova e sanguinosa guerra tra esseri umani allo scopo di evitarla firmano uno storico trattato noto come la grande intesa in cui le principali casate e la gilda spaziale giurano di rispettare il nuovo codice legislativo con l'obiettivo di preservare la vita umana di conseguenza vengono poste delle regole alquanto severe che possano scongiurare guerre faide o sanguinosi conflitti tra pianeti inoltre sul suggerimento delle bene geserit e della gilda spaziale viene fondato un consiglio noto come l'endest rad in breve si tratta di un'assemblea democratica di cui fanno parte tutti i nobili dell'impero che regola l'immensa realtà feudale che è venuta a costituirsi nell'universo il suo scopo è quindi quello di promuovere la risoluzione pacifica delle dispute aiutando a regolare il commercio internazionale tra i grandi governi a capo dell'endest rad vi era l'alto consiglio deciso in parte tramite estrazione mentre il restante veniva eletto tramite la votazione dei popoli rappresentanti i vari feudi oltre all'endest rad viene istituito il tronno del leone dorato comunemente conosciuto come impero galattico brevemente a seguito della jihad battleriana l'umanità inizia una lenta evoluzione che tramite l'endest rad porta alla formulazione di alcune leggi di alcuni decreti che possono regolare i rapporti economici e diplomatici tra i diversi governi nell'assemblea nobiliare emerge però un ex comandante militare chiamato faikan battler discendente diretto di serena battler la donna che aveva dato inizio alla crociata contro le macchine faikan a seguito della vittoria degli esseri umani aveva finalmente ottenuto il titolo di imperatore cambiando il nome di famiglia da battler a corrino in onore della famosa battaglia di corrin avvenuta 88 anni prima della gilda pertanto la casata corrino simboleggiata proprio dal leone dorato diviene da quel momento la più importante famiglia dell'endest rad riconosciuta come imperatori padiscia dell'universo conosciuto da qui oltre alla religione si adotta anche un linguaggio comune una valuta interplanetaria e un codice legislativo che possa regolamentare i milioni di pianeti appartenenti all'impero dal momento in cui corrino salgono quindi al potere nel ruolo di imperatori ci resteranno per i successivi diecimila anni per concludere dato che nei prossimi video vedremo meglio il complesso sistema socio politico che struttura la saga perché è veramente articolato lo vedremo a pezzi a blocchi oggi finiamo con lo spiegare invece come funziona l'equilibrio instauratosi tra le nobili casate dunque al centro abbiamo quindi l'imperatore padiscia membro della casata corrino che è il regnante dell'universo conosciuto tuttavia in questa sorta di governo feudale l'imperatore condivide il controllo della galassia con l'assemblea landesrad le corporazioni per lo sviluppo commerciale nota come la choam la gilda spaziale e la sorellanza delle bene jesserit queste ultime tre quindi le bene jesserit la gilda spaziale e la choam sebbene siano essenziali per il sistema economico politico e religioso si dichiarano ufficialmente neutrali quindi in questo clima politico economico i corrino sono di fatto una superpotenza militare che può contare sia sulle forze di leva quindi sulle forze fornite in modo obbligatorio da tutte le casate come tributo e lasciato come tributo di fidelità all'imperatore inoltre possono fare affidamento sui loro letali soldati addestrati indottrinati per obbedire fedelmente soltanto all'imperatore pertanto attraverso il potere politico economico e la superiorità militare l'imperatore influenza e guida le restanti forze politiche dell'impero di fatto in breve gestisce quindi l'universo conosciuto secondo la propria volontà tuttavia per mantenere un gioco di equilibri l'assemblea landesrad dovrebbe contrapporsi al potere imperiale infatti prese singolarmente le nobili casate non potrebbero mai eguagliare il potere dell'imperatore sono molto più piccole molto più limitate sia economicamente che militarmente ma in caso il landesrad si unisca la coalizione delle grandi case andrebbe a neutralizzare la potenza del correno andrebbe a superarla dando origine quindi ad una nuova superpotenza pertanto nessuna casa nemmeno quella dell'imperatore può definirsi indipendente al contrario deve affidarsi agli altri feudi e mantenere rapporti di collaborazione in questo modo il potere non è mai totalmente nelle mani di una singola fazione in aggiunta ciò sia le singole casate che lo stesso imperatore sono completamente dipendenti dalla gilda per quanto per quanto concerne gli spostamenti interstellari e dalla ciò per quanto riguarda invece il commercio tale struttura sociale di dipendenza lealtà e di alleanze ha garantito per secoli un delicato equilibrio volto impedire che qualche fazione più ambiziosa potesse in qualche modo destabilizzare la società venuta a crearsi proprio dopo lo giade batteleriano questo era quindi più o meno il mondo politico che è emerso dal primo anno dopo la gilda l'anno 1 after guild nel prossimo e ultimo video introduttivo vedremo quindi meglio le principali casate chiuderemo alcune parentesi sugli equilibri di potere venuti a crearsi e spiegheremo finalmente l'importanza del pianeta dune quindi del pianeta arrakis da cui dipende l'intero sistema politico economico e sociale infatti se ricordate ve l'ho detto nell'episodio precedente la spezia nota anche come melange si trova unicamente su tale pianeta si trova unicamente su arrakis e dopo la sconfitta delle macchine la spezia divenne l'ingranaggio che fa muovere tutto quanto pertanto chi controlla la spezia chi controlla il melange controlla l'intero universo al che il pianeta arrakis divenne un secondo problema per mantenere l'equilibrio delle potenze galattiche e nel prossimo episodio vedremo meglio come venne risolta anche tale disputa io come sempre lo sapete ormai sono emilio valotti e spero di avervi intrattenuto anche oggi ringrazio di cuore riccardo fine il canale youtube da grande voglio fare il buddha per avere creduto in me per avermi convinto a iniziare questa serie di video perché ragazzi sono accetato perché sono difficili la pronuncia i contenuti memorizzare tutto quanto ma ne sono anche lieto perché è veramente è una saga stupenda e senza riccardo se non mi avesse mai convinto non avrei mai avuto il coraggio di cimentarmi in questa grandissima impresa in descrizione quindi trovate il link per il loro canale da grande voglio fare il buddha e mi raccomando correte a seguirli correte a ringraziarli anche perché grazie a loro lo ripeto su su spreaker su spotify e su itunes potete ascoltare i miei video più molti inediti direttamente sotto forma di podcast detto ciò ragazzi miei vi attendo alla prossima settimana grazie a tutti per avermi seguito